Una delle caratteristiche specifiche del discepolo e di Gesù è prendere la propria croce e seguire il maestro inoltre, amare come egli ha amato. Così ci vengono adettati questi pensieri. Io però cambierei la posizione. Amare i fratelli e di conseguenza portare la croce perché non si è discepoli per portare la croce, si è discepoli per amare e dato che amare è donazione di sé e sofferenza e impegno, quindi si prende anche la croce propria che è quella di Cristo Gesù che ha portato per il bene di tutti gli uomini. Quindi bisogna donarsi, essere discepoli e donarsi agli altri nelle varie sfaccettature della vita cristiana. Certo oggi il modo di vivere della famiglia è un modo tutto particolare, ma è della stessa società moderna, quindi il lavoro, la casa, la famiglia e oggi grazie a Dio anche il volontariato che è una bellissima realtà. Nel 1990 come statistica, se non erro, vi erano 200.000, 300.000 donne impegnate nel volontariato, e come uomini molte di meno, direi quasi la metà. Cosa devono fare? Cosa si può fare col volontariato? E quindi manifestazione di amore. Alcuni, quindi gli anziani, le famiglie in difficoltà, i minori, le ragazze, le ragazze madri, gli ammalati, eccetera. Ci sono tante manifestazioni in cui si può essere apostoli, si può essere amanti dei fratelli. Oggi quindi è di moda il volontariato e le varie parrocchie, le varie organizzazioni dovrebbero avere un'attenzione particolare per chi è nel bisogno, è di gente che è nel bisogno e ce n'è tanto. Il Signore chiama tutti ad essere i Suoi collaboratori per la costruzione del regno. Questa chiamata non è diretta solo ai chierici, ai sacerdoti, ai missionari, alle persone consagrate. E' per tutti, per tutti, anche non battezzati. Quindi per tutti battezzati e anche non, perché tutti siamo figli di Dio e di conseguenza siamo fratelli e siamo tutti responsabili uno dell'altro. Essere discepoli di Gesù significa credere e professare che Egli è vero Dio, è vero uomo. La fede in Cristo è il primo e imprescindibile passo che ci permette di scoprire l'eternità alla luce della verità della parola di Dio. Sull'esempio di Gesù, il discepolo si mette alla sua sequela. Non può esimersi dal percorrere la via del Calvario, perché l'impegno per gli altri è insita, richiama un sacrificio. Non è che per gusto il Signore ha detto voi dovete portare la croce, no. È per la nostra santificazione, per il nostro bene, e questo bene si produce proprio amanti gli altri. Tutti siamo chiamati a essere discepoli di Cristo, a servizio con una degna condotta di vita, con gli stessi sentimenti che furono di Cristo umiltà, obbedienza e amore generoso. Facendo un riferimento alla vita di San Francesco, rimaniamo colpiti come l'esigenza di Francesco e senti in maniera pressante l'annuncio del Vangelo ad ogni creatura. Diamo qui solo qualche accenno, con un parallelismo tra frate Francesco e Padre Pio. Francesco, disse di Rosso di Avventura, è un viandante, non sta mai fermo o poco, se non è Monte Verna, e gira, arrivare perfino in Marocco. Padre Pio invece è stabile. Perché questa differenza? Tutti e due annunciatori del Vangelo, uno camminatore e l'altro stabile. Padre Pio non poteva affrontare la vita di Francesco perché era un malato e la sua sede era il confessionale. Francesco annuncia la salvezza mediante la predicazione del Vangelo, Padre Pio annuncia la salvezza mediante l'assoluzione dei peccati. Padre Pio non seguirà Francesco nell'apostolato della predicazione, ma si isolerà nella preghiera a Piana Romana o nella Celle del Convento di San Giovanni Rotondo. Non predicherà, ma scriverà le lettere, scriverà e quindi lettere che abbiamo raccolto in quattro libri dell'epistolario e vivere questo mondo senza legarsi alle cose temporali e affaticarsi per strappare le anime dalla spirale del male. Francesco, il padre, camminerà giornate interi, Padre Pio il figlio, confesserà fino a 16 ore al giorno per la salvezza dei suoi fratelli.